ciao a tutti oggi su un giochi per bambini in j2 vorremmo farvi vedere come si fa con un semplice cartoncino di recupero a costruire un dinosauro per giocare con i bambini si direte di misurare a cui piace di più io per una questione di tempo l'ho già predisegnato sulla parte piano di questa scatola ho disegnato la faccia del dinosauro ok il materiale che servirà per questo lavoro sarà un semplice cartoncino di recupero una forbice una cambratrice e dei colori ora procederemo a partire a tagliare il nostro bel dinosauro ecco questo è il risultato che avrete dopo che avete tagliato la sagoma disegnata ora dobbiamo mettere insieme e colorarla allora prendiamo le due estremità e le sovrapponiamo una volta che abbiamo controllato che si possono solo mettere uno sopra l'altro possiamo andare avanti colorare possiamo ad esempio colorare la crista facciamogli un colore dopo possiamo disegnare l'occhio facciamogli un colore facciamogli un colore 第三 Grazie. Dopo possiamo partire e colorare tutto il dinosauro, con il verde ad esempio. Ecco ragazzi, queste sono le due parti, come se non venite fuori. Queste due parti colorate, ora le mettiamo insieme. Li mettiamo bene, dalla parte così. Adesso prendiamo questi due, e con la camoratrice le fissiamo. Non è proprio semplice però. Non è proprio semplice, non è possibile. Grazie a tutti Grazie a tutti Ecco I dinosauri Li potete fare come volete Colorate come volete Ciao a tutti Ci vediamo al prossimo lavoro